buongiorno buongiorno a tutti siamo siamo live in questo momento per cui dopo il video di presentazione di produzione di questa prima giornata rupo giusto qualche minuto in diretta sono visibilmente emozionato perché insomma è un appuntamento a cui ci teniamo tantissimo ci tantissimo è fondamentale per la nostra community sono stra contento di vedere tutte queste persone collegate online la community italiana è più viva che mai e mi dicono dalla regia che il nostro contributo a open upgrade non era di 500 euro ma di mille per cui diciamo siamo abbiamo alzato la posta in paio il nostro supporto si fa si fa sentire la community italiana c'è più viva che mai e un piccolo passaggio che non ho fatto durante il video di introduzione è registrato e insomma nel ringraziare i relatori ci tengo a sottolineare il fatto che visto è considerato che quest'anno la manifestazione della conferenza va interamente online e ringraziamento è doppio nei loro confronti perché hanno dovuto dedicare del tempo a creare il video a registrare il loro intervento e faccio per venire nei tempi prestabiliti insomma sono stati tutti bravissimi hai visto questo dato che molti dei relatori insomma sono cimentati per la prima volta con questo aspetto per cui la nostra associazione inizierà a spornare da oggi dei youtuber professionisti per quanto riguarda il mondo odù un'ultima cosa prima di iniziare noi stiamo tracciando una strada che porterà a fare dei cambiamenti cambiamenti importanti per la nostra associazione quindi nell'assolvere il compito di promuovere valorizzare odù nel territorio italiano abbiamo ben pensato di regalarvi quest'oggi una piccola passaggio di quella che è una campagna di marketing che abbiamo pianificato per odù in italia dalla regia in via della promo cosa serve per rendere più efficiente un'azienda cosa serve per rendere più efficiente la tua azienda più tempo più soldi più obiettivi sicurezza stabilità controllo o innovazione evoluzione e passione serve integrazione semplificazione e relazione la possibilità di controllare i processi in modo semplice e veloce il mezzo per implementare rapidamente nuove funzionalità l'opportunità di rendere il tuo lavoro più agile grazie a odù hai una piattaforma personalizzabile completa e sempre connessa con odù può integrare fatturazione elettronica crm gestionale e commerce e qualsiasi altra funzione indispensabile con odù hai un sistema open source libero ed adattabile alle tue esigenze insieme siamo cresciuti insieme abbiamo sviluppato innovazione e insieme vogliamo andare oltre con odù italia centinaia di sviluppatori lavorano ogni giorno in una realtà internazionale per offrire alle aziende un luogo migliore per le persone per fare meglio in meno tempo per dare valore a ciò che conta veramente odù italia non so non so non so Grazie.